Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola aggiornato alle 17 di venerdì 17 aprile in merito all'emergenza coronavirus così come comunicato dalla regione siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 45.172 più 2.767 rispetto a ieri. Di questi sono risultati positivi 2.625 più 46 mentre attualmente sono ancora contagiate 2.139 persone più 31.296 sono le persone guarite più 12.190 quelle decedute più 3. Degli attuali 2.139 positivi 567 pazienti sono ricoverati di cui 46 in terapia intensiva mentre 1.572 sono in isolamento domiciliare. Questa è la divisione degli attuali positivi nelle varie province Agrigento 129, Caltanissetta 114, Catania 607, Enna 304, Messina 377, Palermo 335, Ragusa 59, Siracusa 101, Trapani 113. E quanto comunica la presenza della regione siciliana e il prossimo aggiornamento avverrà stasera. Questi infine i dati trasmessi dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento comune per comune. Dall'inizio dei controlli sono stati eseguiti 2.964 tamponi di cui 112 risultati positivi con questa suddivisione. 13 ad Agrigento, 1 ad Aragona, Caltabellotta e Camastra, Campobello di Licata e Canicattì 6 casi mentre il sindaco Ettore di Ventura dice che sono 5 perché c'è un guarito ancora l'ASP non ha annotato questa variazione. Favara 4, Lampedusa 1, Licata 8, Menfi 12, Montallegro Naro 1, Palma di Montechiaro 9, Porto Empedocle 6. Anche in questo caso ci dovrebbe essere una variazione visto che uno dei positivi è guarito, il marito del sindaco Ida Carmina, Raffadali 3, Ravanusa 3. Anche in questo caso il sindaco Carmelo D'Angelo sostiene che invece i casi comunicati sono 4. Real Monte 1, Ribera 8, Santa Margherita di Benice 3, Sciacca 23, Siculiana 1 caso. Per quanto riguarda le persone ricoverate al momento sono 11 e sono suddivisi a Caltagirone 1, Caltanissetta 4, 1 a Enna, Marsala e Messina e un altro all'Arnas Civico di Palermo mentre due persone sono ricoverate a Partinico.